Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nella splendida cornice dell'Arena di Verona, martedì 3 settembre, si terrà l'attesissimo evento musicale RTL Power Hits, estate 2024. Con le esibizioni di alcuni dei cantanti più amati, vediamo chi sono gli ospiti. Martedì 3 settembre si terrà il Power Hits estate di RTL 2.5, l'evento musicale che premierà la hit dell'estate 2024. Con la conduzione di Matteo Campese e Paola Di Benedetto, sul palco saliranno artisti come Annalisa, Emma, Tananai, Big Mama, Geolier e Capo Plaza. L'RTL Power Hits è uno degli eventi musicali più attesi dell'estate. Per il 2024 numerosi cantanti si esibiranno per contendersi la vittoria del Power Hit. Tra gli artisti che si esibiranno all'Arena di Verona ci saranno Annalisa, Emma, Big Mama, Capo Plaza, Jolier, Irama, Comacose, Noemi, Sofia and the Giants, Gigi D'Alessio, Gu, Francesco Gabbani, Alfa, Roseville Lane, Gaia, Angelina Mango, Alessandra Amoroso, Fedez, Articolo 31, Boom Dabash, Mahmood, Bankquantequattro, Anna, Emi Schilla, Tony F, Paola e Chiara, Elodie, Negramaro, Gali, The Colors e Tananai. Oltre al Power Hit saranno assegnati altri premi come R125 Power Hits Estate 2024, Fimi, RTL 2.5 Power Hits Estate 2024, P, RTL 102.5 Power Hits Estate 2024, CIE e RTL 102.5 Power Hits Top Album 2024. L'evento sarà trasmesso in diretta su RTL 102.5, Radio Z, RTL 102.5 Play, su Sky 1, Now e TV. There. 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 Grazie a tutti.